Si chiama Alexis, è una giovane donna straniera, la quale pensate che ha bevuto una vivida energetica come quelle che si trovano in commercio, hanno diversi nomi commerciali, di tipo dimagrante ed è finita dritta dritta in ospedale. Pensate che la donna dice ho avuto problemi di cuore, quindi a livello cardiaco, a livello intestinale, gastrointestinale, a livello psicologico, neurologico, ai reni, finti del nostro sangue, a livello psicologico. Iniziava letteralmente a perdere il controllo del suo corpo, non appena ha bevuto la bevanda energetica. Ricca di guaranate verde e vitamine, che però le ha provocato difficoltà e non poche. E' stata che ha perso la bellezza di 14 kg, un calo fortissimo ponderale, che ha causato in lei anche danni piuttosto ingenti, piuttosto problematici. Il perdere di peso non è stato solamente il problema, ma anche la pelle che si è arricchita di sfoghi cutanei, mi sono stato curare e iniziato a vacillare, problemi psicologici, insomma, questa bevanda, sempre che l'abbia provato, deve danni molto forti. Vi ringrazio per l'ascolto, sempre attenzione alle bevande che beve.